Continuano nei Tg i consigli del governo per quanto riguarda il risparmio energetico, quindi bisogna abbassare la temperatura di 1 o 2 gradi, bisogna fare le lavastoviglie piene, bisogna fare le lavatrici piene, non bisogna lasciare le luci accese inutilmente eccetera eccetera eccetera, ma piccola considerazione senza grandi pretese per carità, ma davvero pensate che chi vive con 1200 euro al mese o il pensionato che prende 600 euro al mese si diverta a fare le lavatrici con un calzino al colpo o le lavastoviglie mettendo dentro una forchetta giusto per sentire il rumore che fa, chi ha questi redditi e il risparmio energetico lo fa forzatamente da anni, io trovo abbastanza irrispettoso nei confronti di tutti questi, questi continui consigli che per alcuni sono consigli e per altri invece sono delle necessità.